I dati pubblicati dall'osservatorio sul pre-creato dell'Istrat certificano che quantomeno a partire dal 2013 vi è stato un uso esponenziale dei voucher. Nel 2015 si è verificato un aumento del 66% rispetto al 2014 nell'uso dei voucher. I dati parziali nel 2016 denotano un aumento del 40%. Si tratta di dati che richiamano e fanno riferimento a milioni di ore pagate a mezzo dei voucher che corrispondono o corrisponderebbero a circa 170 mila unità di lavoro part time. La finalità tanto declamata dal legislatore che era quella di contrastare il lavoro nero dell'economia informale non è stata per nulla raggiunta, soprattutto nelle zone del nostro Paese caratterizzate da alti tassi di lavoro nero e economia informale. In più invece si è raggiunto il risultato tutt'altro che positivo di avere un effetto sostituzione del lavoro subordinato standard garantito dalle tutele legislative e contrattuali a fronte di un ricorso al lavoro accessorio come tipologia di lavoro priva delle tutele fondamentali e che ha comportato un abbassamento del potere contrattuale salariale. Si tenga conto che il valore nominale del voucher di 10 Euro è fermo dal 2004, quindi un incremento ancora più del processo di precarizzazione dei lavoratori che appunto denota una politica del diritto ben specifica e ben precisa del legislatore odierno che è quello di andare a garantire esclusivamente le modalità di procacciamento della forza lavoro da parte del mondo delle imprese disinteressandosi completamente di apprestare un nuovo quadro di tutela e diritti per i lavoratori precari.